benvenuti a nuova video di gioca con me oggi ho qualcosa di davvero favoloso per voi sono gli jabi puppies and friends il parco giochi sono dei piccoli cagnolini carini e hanno un parco giochi una specie di villaggio tutto polore fatto la spin master prima mini dai quattro anni adesso apriamo insieme questo bellissimo set e poi ce lo guarderemo per bene allora il nostro pet fan center è stato costruito è stato abbastanza semplice da costruire allora vi faccio vedere uno di questi chubby puppies è un cagnolino ce ne sono di diversi vedete qui ecco questo quello che abbiamo noi questi piccoli cagnolini sono abbastanza cicciottelli hanno le batterie sono capaci quindi di camminare poi da soli volete che forse un po rumoroso sul tavolo poi c'è una particolarità vedete il cane capace di portare le cose nel la bocca per esempio il cestino vedete possiamo portare in giro quindi il suo piccolo cucciolo ci sono anche tante altre cose che si può fare in questo pet fan center questo lo rimettiamo al suo posto togliamo il cesto allora può entrare poi qui può farsi un bel bagnetto poi appena schiaccia qui allora il piccolino può salire sopra e poi scivola giù quindi c'è un bello scivole a terra qui sull'altalena che dondola come potete vedere quando la mamma poi è pronta poi può andare avanti guardarsi allo specchio continuare arrivare al parco ovviamente poi possiamo farlo fare anche da solo ha incastrato ok poi continuiamo qui c'è una giostra e la mamma poi quando la si accende fa girare la giostra in modo molto molto lento perché è un po pesante penso che il pet fan center è abbastanza divertente con le varie stazioni e lo scivolo che porta il piccolino poi all'altalena poi abbiamo la mamma e il piccolino e quindi sì mi piace mi piace davvero molto se vi è piaciuto lasciate un po il cell in su lasciate nei commenti se vorreste vedere altri set del chubby puppies o se ne avete uno preferito se l'avete ancora fatto iscrivetevi ovviamente al nostro canale così da non perdere nessuno video ci vediamo alla prossima ciao